Lecce, il presidente Paolo Pagliaro dopo una consultazione con i vertici del Movimento Regione Salento, d'accordo con il Consiglio Direttivo, ha proceduto alla nomina del nuovo coordinatore provinciale. È il dottore Gianluca Montinaro, 44enne, nato a Colonia in Germania, laureato con l'Ode in Scienze Politiche presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari, e con successivo diploma di Master in Management Pubblico conseguito cum laude presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Desidero ringraziare il presidente Paolo Pagliaro per la straordinaria opportunità concessami di essere protagonista, insieme a lui, e a tutti gli amici che hanno a cuore il destino della nostra terra, di una eccezionale occasione di riscatto. Ha affermato Montinaro, da tanto, troppo tempo ormai, nonostante le occasioni avute, il Salento è derubricato dalla classe politica a faccenda fastidiosa, da trattare con spocchia e saccenza, oltre che con colpevole non curanza. È giunto il momento di impegnarci. Lo dobbiamo oggi a noi stessi, in un sentimento rinnovato di comunità partecipante e di orgoglioso senso civico di appartenenza. Lo faremo soprattutto per le future generazioni, alle quali intendiamo offrire opportunità diverse e migliori dalle attuali.